Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Albano ha rilasciato una nuova sconvolgente confessione su sua figlia Ilenia, la causa della sua morte. Sono quasi 30 anni che la figlia maggiore di Albano, Evomina Power, manca ai suoi cari. Si tratta di una ferita ancora sanguinante che difficilmente si rimarginerà nonostante il tempo. Nel 2013 il personaggio televisivo ha ottenuto la dichiarazione di morte presunta, un atto dovuto e molto sofferto per il cantante. Ma quale commovente rivelazione si è verificata? Il cantante ci ha tenuto a precisare che il suo matrimonio non è finito per la tragedia della figlia, ma che lo sguardo dell'ex moglie era diverso già da tempo. La maggiore dei quattro figli avuti con nomina Cowell studiava al King's College di Londra, parlava quattro lingue e aveva accompagnato i genitori che giravano un docufilm in America. A New Orleans rimase colpita dagli artisti di strada e in particolare da un uomo di nome Masakela. Una sera l'attore intuì che la figlia aveva qualcosa che non andava e infatti sfuggì al suo controllo mentre l'uomo impotente tentava di convincere le persone intorno che la ragazza aveva. Problemi di droga. Quando la ritrovò il mattino seguente disse che aveva rischiato la vita nel Mississippi. Lui stesso ha ricostruito gli ultimi giorni e ore della figlia, parlando con i testimoni e persino con Masakela. A dargli la certezza che la figlia era morta nel fiume è stata la testimonianza del guardiano del porto che aveva visto una donna bionda seduta vicino al fiume. Dopo averle ripetuto che non poteva stare lì la ragazza, gli disse che lei apparteneva alle acque e si tuffò nel fiume.